Tra Val di Sangro e Ovidiana Sulmona vince l'equilibrio, giusto pari al Monte Marcone di Atessa. Un punto importante per i Peligni perché ottenuto su un campo difficile, mentre per i Sangrini serve a rialzare la testa dopo due sconfitte. I padroni di Cassa sono privi dello squalificato Torres, negli ospiti manca Sciala per squalifica e in attacco in considerazione delle condizioni non ancora buone di Edoardo Cucurullo che siede in panca, l'Orella fiducia a Bianchi, non al meglio anche il difensore Tosti che viene portato tra le riserve. Quattro gli under mandati in campo dal tecnico dei Biancorossi con l'undici iniziale che presenta un'età media di 21 anni. Nei primi istanti del match i padroni di Cassa provano a spingersi in avanti, ma il primo sussulto è degli ospiti. Al sesto traversone dalla destra di Zimei per i Sotti che in area non sfrutta la palla del possibile vantaggio con il suo colpo di testa che viene parato da Garibaldi. Al decimo tenta il tiro Federico dopo un rimpallo in seguito ad una punizione, al quarto d'ora punizione per la Val di Sangro eseguita da Carpineta con palla deviata dalla barriera e terminata di poco a lato. La squadra di Soria prova a rendersi insidiosa anche sul conseguente corner. Al diciottesimo dibiasse dalla destra e colpo di testa in area di Dorazio, ma blocca Imperatore. Subito dopo punizione di Sotti e colpo di testa di Lorenzetti con palla in out, da sottolineare poi una bella chiusura del portiere dei Sulmonessi Imperatore su Del Roio. Al ventiquattresimo si rende pericolosa la Val di Sangro con un colpo di testa di Pasquini dopo una punizione di Del Roio con palla di pochissimo alta. Alla mezz'ora ci prova Baci dalla distanza, ma per Garibaldi non c'è alcun problema. Al trentacinquesimo si alza qualche protesta della Val di Sangro che reclama un tocco con la mano in area di Cardile dopo l'esecuzione di un calcio di punizione. I Peligni provano qualche spunto in profondità con Bianchi, ma si arriva al quarantacinquesimo esatto con Arnese di Teramo che fischia la fine del primo tempo. Nella ripresa il primo sussulto al tredicesimo da parte della Val di Sangro con una girata in area di Carpineta, al diciottissimo gran tiro da fuori area di Di Biase con Imperatore che si salva in angolo. Quasi alla mezz'ora Lorei inserisce in attacco vuolo al posto di Sotti e nella Val di Sangro c'è l'ingresso del tecnico Peppe Soria che toglie Del Roio. Al trentacinquesimo azione del Sulmona che si conclude con un tiro di Bianchi fuori misura ma si accende qualche discussione perché c'era un giocatore della Val di Sangro a terra. Al quarantissimo si vedono i padroni di casa con un traversone dalla destra di Tano ed in area prova a colpire di testa Dorazio ma è provvidenziale la chiusura di Baci. Le due squadre tentano altri spunti nel finale ma termina 0-0. Lorei, buon punto quest'oggi ad Atessa su un campo difficile. Campo difficilissimo, lo sapevamo. Devo dire che sono molto soddisfatto dei ragazzi, si sono comportati bene anche per l'età media, oggi schierata in campo. Devo dire che la squadra, devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno dato tutto, abbiamo espresso veramente un gran gioco, devo dire che abbiamo dato intensità alla partita e il primo tempo se chiudiamo con le due palle la partita chiaramente cambia. Si fa sentire il problema in attacco con questo Sulmona che bisogna sottolineare, manca in fase di finalizzazione. Ma guarda, ti devo dire che se andiamo a vedere, tranne la partita di Lanciano, sei partite abbiamo subito zero gol e ne abbiamo fatti otto. Chiaramente poi, come sappiamo, come sai, nel calcio ci sono i periodi e purtroppo quando c'è il periodo che la palla non vuole entrare ci si danna l'anima ma non entra, arriveranno periodi migliori. Un buon punto perché comunque affrontavamo una squadra che sapevamo i valori ma anche perché doveva essere una reazione alle due partite dove avevamo peccato un po' in alcune situazioni prendendo dei gol e secondo me veramente da squadra non compatta. Invece oggi, bene, un'ottima partita, qualche occasione l'abbiamo avuta e mi è piaciuto tutto, dal primo all'ultimo. Si è entrato nel secondo tempo per cercare di dare il contributo in attacco ma quanto si sente l'assenza di Torres? Roman con il suo modo di giocare ci ha creato, fra parentesi, un piccolo danno però torniamo al discorso che faccio sempre cioè, morto un pava se ne fa un altro Roman con le sue caratteristiche vuole dire che faremo altro più che altro per parare l'assenza di Roma lui con la sua fisicità, il suo modo, la sua personalità comunque ci ha dato una grossa mano ma noi lo aspettiamo perché comunque la squalifica che ha preso è stata anche giusta però si potevano evitare certe situazioni. La Val di Sangro è una squadra di categoria ostica messa bene in campo e chiaramente con gente esperta è chiaro che il periodo è questo comunque abbiamo fatto tre partite questa settimana abbiamo preso due punti andiamo avanti per la nostra strada vediamo che anche le altre insomma non è che facciano grandi punti noi però dobbiamo andare avanti per la nostra strada esprimendo questo gioco e questa intensità facendo crescere i ragazzi dando fiducia ai ragazzi e è questo poi alla fine quello che ci ha chiesto la società quindi per quanto vi riguarda bene così è chiaro è chiaro bisogna vincere questa è fuori discussione credo che questa di oggi mi riferisco alla partita di oggi è una partita nella quale io non posso rimproverare nulla ai ragazzi i ragazzi hanno dato tutto va bene così noi dobbiamo solo continuare su questa strada riarriveranno le vittorie, riarriveranno i gol se giochiamo così non ci sarà problema Notizie sul recupero di Cucurullo? Cucurullo sta meglio oggi non abbiamo voluto rischiarlo per non peggiorare la situazione mi auguro che domenica possa rientrare a disposizione chiaramente della squadra è chiaro che Cucurullo dovrà fare i conti con le buone prestazioni anche degli altri ciò non toglie che se sta bene lo prendiamo in considerazione come tutti noi abbiamo un ottimo reparto difensivo un ottimo centrocampo stiamo peccando un po' in avanti ma cercheremo comunque di fare altre situazioni per creare più palle e gol anche perché poi arriviamo lì davanti e dopo aver fatto varie giocate non fare gol dispiace però intanto non prendiamolo e poi andiamo avanti Soria quest'anno ha la prima esperienza come allenatore ma come ci si sente a rivestire questo doppio ruolo allenatore e giocatore doppia responsabilità? No, no, diciamo che la mia prima responsabilità e forse l'unica è quella di allenare questi ragazzi con cui sono legato più di amicizia in questo momento che da rapporti di allenatore perché era un gruppo che conoscevo già da due anni la società mi ha dato questa opportunità perché ho una problematica fisica che mi ha diciamo bloccato l'anno scorso sto cercando di recuperare però loro sanno che su di me non devono contare come giocatore ma devono contare come allenatore altrimenti poi sarebbe troppo facile non fare quali dire se c'era Peppe non è così loro sanno quello che devono fare io li posso aiutare fuori dal campo o non da dentro in questo momento Per aggiungere qualcosa di importante riguardante la Val di Sangro dobbiamo sottolineare che è stata l'unica squadra a battere il Lanciano finora Sì, quello è stata vuol dire che dei valori noi li abbiamo e quindi quelle due partite dove abbiamo avuto questi due il richiamo infortuni sono state delle situazioni noi, ripeto siamo un gruppo che sappiamo quello che dobbiamo fare in campo intanto vediamo la salvezza poi il Lanciano farà la sua strada ma con noi diciamo è inciampata però il Lanciano non avrà nessun problema a vincere però è una bella soddisfazione ce la siamo presi anche perché eravamo in dieci quindi mi è toccato entrare anche quella partita per sostituire Torres quindi speriamo che non succeda più Ricordi di Sulmone? Allora io a Sulmone lo sarò benissimo in un ambiente fantastico a cui auguro veramente di tornare dove merita per il campo per i tifosi Valerio Cardile dopo la parentesi di Lanciano due gare due pareggi parliamo del match di oggi un punto importante su un campo difficile sì sicuramente Domenico un punto importantissimo studato è una partita che sapevamo era difficilissima e niente era soprattutto difficile mantenere la rete inviolata dopo la brutta prestazione di Lanciano ci siamo riusciti potevamo fare sicuramente di più con lo scafa oggi abbiamo dato un'altra ottima risposta e siamo fiduciosi e convinti di poter fare sicuramente sempre meglio tutti insieme parte la gara di Lanciano il Sulmona si conferma tra le migliori difese di questo campionato e tu sei un rappresentante del pacchetto arretrato di questa squadra come sta andando a livello generale sì sì sicuramente stiamo facendo bene tutti ma come stiamo facendo bene lì dietro stiamo facendo bene in porta con Riccardo con Cristian a centrocampo e in attacco quando si fa gollo quando si prende non c'è un reparto che va meglio degli altri il lavoro è di tutti e speriamo di fare sempre meglio perché possiamo farlo e voglio sicuramente ringraziare i tifosi che ogni volta sono presenti e ci stanno dando una grossa mano in tutte le trasferte e soprattutto nelle partite in casa sei soddisfatto della tua permanenza qui a Sulmona quindi giudichi sicuramente positivo quest'ambiente assolutamente è una piazza che ci sta dando tanto a tutti noi ci darà tanto e io in primis a tutti quanti siamo orgogliosi di indossare questa maglia e adesso domenica prossima di nuovo in trasferta contro la Fater Angelini Abruzzo poi si affronterà in casa il San Salvo che campionato sarà secondo te da qui in avanti sicuramente un campionato difficile c'è il Lanciano che sta dominando questo campionato ma anche i compagini come San Salvo Casalbordino la Fater che affronteremo domenica avendo tutte quante affrontate col giusto col giusto rispetto è la giusta cattiveria senza senza paura di nessuno e non indietreggiando davanti a nulla ciao 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 ciao